Il Paradiso, anticipazioni dal 12 al 16 dicembre, Marco e se ne vanno, Veronica in crisi. Le anticipazioni del Paradiso delle Signore 7 rivelano che la SOV tornerà in onda dal 12 al 16 dicembre 2022 con nuove puntate in prima visione assoluta. Subito dopo la pausa di due settimane per lo stop dovuto ai mondiali di calcio. I colpi di scena non mancheranno, dato che Flora Ravasia accetterà la proposta di fidanzamento fatta da Umberto. Mentre Marco e Stefania comunicheranno la loro decisione di lasciare la città per permettere al giovane di seguire il suo sogno professionale. Nel dettaglio, le anticipazioni del Paradiso delle Signore dal 12 al 16 dicembre 2022 rivelano che Flora dopo essere rimasta spiazzata dalla proposta di fidanzamento ufficiale del comandatore Guarnieri, non riuscirà a dire di no. La stilista del grande magazzino, dopo aver vissuto un momento di crisi che l'ha portata ad allontanarsi da Umberto. Tornerà sui suoi passi e alla fine accetterà anche il prezioso anello del comandatore. Tra i due, quindi, tornerà di nuovo il sereno al punto che le amiche di Flora cominceranno anche a ipotizzare un possibile matrimonio in arrivo tra lei e Umberto. Spazio anche alle vicende di Ezio e Veronica, dopo che la donna ha assistito assistito al caloroso abbraccio tra il suo promesso sposo e l'ex moglie Gloria, non l'ha presa per niente bene. Veronica non potrà nascondere i suoi timori dopo questa ritrovata serenità tra Ezio e la mamma di Stefania. Motivo per il quale si ritroverà in profonda crisi. Di conseguenza, Gloria si sentirà in colpa per questa situazione durante un confronto con Ezio. Chiederà all'uomo di tranquillizzare la sua promessa sposa, mettendola al corrente del fatto che il loro rapporto sarebbe dovuto solo ed esclusivamente agli affari che intendono portare avanti insieme. Ma non è finita qui, perché le anticipazioni del Paradiso delle Signore 7 del Calitro 12 al 16 dicembre 2022 rivelano che ci sarà spazio anche per la partenza di Marco e Stefania. Stando a quanto apprende Blasting News, dopo che il giornalista riceverà una importantissima proposta di lavoro, riuscirà a convincere la sua amata Stefania a seguirlo. Di conseguenza, i due comunicheranno a Vittorio la decisione di abbandonare il negozio. Per permettere a Marco di inseguire il suo sogno professionale.